Quali sono le parti del corpo che vengono ritoccate in maniera più frequente? Nel caso del centro accelerazione metabolismo, quali sono le parti che i clienti vogliono migliorare? Le parti del corpo o del viso, dottor Giraldin? Sicuramente il discorso ha riguardato moltissimo le terapie legate al viso, quindi abbiamo visto anche con l'effetto dovuto all'aumento delle videochiamate digitali e così via, da tutte le terapie di biorifitalizzazione, rigenerazione autogena, quindi da prodotti biologici derivati dal paziente stesso, un aumento della medicina infiltrativa sicuramente, quindi del cosiddetto filler, piuttosto che anche legato al botulino o a trattamenti a base di laser ed ultrasuoni. Questo per quanto riguarda il viso, in particolar modo il terzo superiore, quindi la parte della fronte e della sezione sovraoculare, e invece il terzo inferiore, quindi la parte mandicolare. A livello del corpo sicuramente il lockdown ha portato un aumento medio di 4-5 chiletti di troppo, diciamo così dovuti al fatto che magari il frigo fosse un po' troppo vicino e che abbiamo vissuto in maniera più intensa la dimensione domestica, in quel caso sicuramente l'aumento è stato legato da un desiderio di riaccelerare il proprio metabolismo sistemico, ma sicuramente anche dei trattamenti per combattere le adiposità localizzate. Quindi per gli uomini magari localizzati sulla cintura addominale e sulla regione dei fianchi, invece per le signore magari legate più all'ambito delle cosce e del gluteo. Ecco, quindi ci sono delle parti del corpo che nel caso delle donne, degli uomini, vanno ritoccate per forza, perché comunque alle volte anche il passare del tempo non è neanche il covid che ci ha fatto così male, alle volte può essere anche semplicemente che il metabolismo funziona in altro modo, oppure si vive una vita che porta il corpo a gonfiarsi o a diventare qualcos'altro rispetto a quello che era prima e quindi è necessario intervenire. I vostri interventi quanto durano? Cioè un intervento presso il centro di accelerazione metabolica ha una durata, cioè mi aiutate a dimagrire, poi devo ritornare e seguire delle cure nel tempo. Come funziona? Tutti i nostri percorsi sono in realtà personalizzati, sia in termini di percorso terapeutico in sé, sia in termini della durata del percorso. Questo avviene solo dopo una misurazione ed una valutazione medica dello stato del metabolismo iniziale del paziente o della patente. Diciamo che generalmente i protocolli che abbiamo sviluppato prevedono una fase iniziale della durata di due o tre settimane circa, una fase intensiva in cui si aggiunge alla parte iniziale del percorso poi tutta una serie di tecnologie a seconda del tessuto da trattare, a seconda delle caratteristiche ovviamente del paziente. Ed infine questo percorso in realtà supportato sempre da un aspetto dietologico e da un'attività fisica che comunque è necessaria, possono prevedere anche dei percorsi di mantenimento, cioè di fare in modo che anche le terapie diventino in qualche modo, ovviamente con una frequenza diversa, però una rutina di benessere. Quindi comunque rimangono degli effetti nel tempo che possono essere mantenuti con l'alimentazione e con lo sport. Che cosa cambiereste del vostro aspetto fisico? Se cambiereste qualcosa, ragazzi, siete bellissime e perfette, devo dire. Forse qui qualcuno che deve cambiare sono io, però vabbè, in questo caso sono io che intervisto, non posso parlare anche da chi mi guarda. Perché se ci guardiamo allo specchio siamo estremamente giudicanti, molto critiche, quindi cambieremmo anche tante cose di noi. Se ci guardano dall'esterno invece? No, alle volte noi ci guardiamo e ci accettiamo per quello che siamo. Viviamo in un momento in cui da un lato si parla di body positivity, quindi della tendenza ad accettare la cellulite, i fianchi, il tempo che ci ha cambiate fisicamente. Dall'altro lato c'è anche il body shaming, cioè la tendenza a insultare persone che semplicemente non hanno la messa in piega a posto o non sono curate al 100%. Quindi diciamo che nel valutare l'altro, oggi dobbiamo trovare ancora un punto di equilibrio. Sì, siamo ancora in una fase un po' estremista probabilmente. Anche questo fenomeno, questo movimento del body positivity che ha sicuramente uno scopo nobile, perché l'obiettivo qual è? È quello di inclusione della diversità, l'inclusione di quegli aspetti o di quelle persone che non corrispondono propriamente all'ideale, al modello di bellezza che ci viene proposto. Quindi è estremamente nobile come scopo. Molto probabilmente invece ultimamente è un po' strumentalizzato, strumentalizzato dal marketing, strumentalizzato anche dalla moda, che cerca in qualche modo di proporre dei modelli imperfetti, ma che poi alla fine sono perfetti, sono comunque molto belli. E poi c'è un rischio che ho sempre percepito, fin da subito, che è quello di trovare una giustificazione a se stessi per non prendersi cura di se stessi, del proprio corpo. Cioè? E cioè queste immagini di donne che si presentano anche sui social, ragazze molto giovani, magari sovrappeso, che si presentano quasi nude, volendo veicolare il messaggio che bisogna accettarsi per quello che si è. E va benissimo, bisogna accettarsi per quello che si è. Ma accettarsi non significa vivere passivamente una determinata situazione, in un'ottica sempre di migliorare. Cosa posso migliorare? Perché il migliorare l'aspetto fisico esterno non significa essere accettati dagli altri oppure rinforzare un po' la nostra autostima, ma significa fare attenzione alla nostra qualità, della nostra salute fisica e mentale. Quindi quello che dicevo prima, il rischio colè. È l'esigenza reale, perché dimagrire, perché c'è un problema di salute, c'è un problema legato alle malattie, ha un senso, ma dimagrire, perché devo rimorchiare di più, ha un altro senso. Quindi il problema forse è che si tende a occuparsi di sé solo per il secondo aspetto e non per il primo, che è realmente importante. Io faccio un'ultima domanda al dottor Giraldin e poi lo lascio andare. Quali sono gli effetti sulla salute dei miglioramenti che i clienti riescono ad ottenere grazie al centro di accelerazione metabolismo, dottor Giraldin? Allora, consideri il fatto che il peso in eccesso rispetto al nostro corpo non inficia ovviamente solo la dimensione estetica, ma in realtà tutta la dimensione sistemica del corpo. Quindi la nostra staticità, la nostra dinamicità, il nostro sistema circolatorio, neurologico, ovviamente poi il nostro aspetto psicologico, come diceva anche prima la dottoressa, e sicuramente le nostre capacità emotive, cioè la capacità del nostro corpo di liberarsi delle sostanze di scarto. Sicuramente un elemento più importante è l'attività infiammatoria. Uno stile di vita sbagliato, una sedentarietà e lo stress, sicuramente unito poi a delle componenti legate all'età, creano dei disequilibri all'interno della nostra capacità di accumulare e bruciare calorie. In particolar modo, la presenza di proteine infiammatorie, come la proteina C-reattiva, ad esempio, che tende ad aumentare appunto in situazioni di stress, in situazioni di sedentarietà e sicuramente legate all'età, porta alla creazione di uno stato infiammatorio, tra cui ad esempio l'inflamasoma, che fa sì non solo che il nostro corpo bruci di meno, ma che abbia molta più difficoltà poi a bruciare anche, diciamo così, a riattivare quella che è la normale attività metabolica. Questo non va solo ad influenzare poi il metabolismo che per come lo intendiamo, per come lo si legge anche nei media, viene spesso considerato come metabolismo adiposo, quindi la capacità del nostro corpo di bruciare il proprio grasso, ma in realtà va ad influenzare anche tutti gli altri apparati, dall'apparato gastrointestinale a sicuramente anche l'apparato legato alle articolazioni del nostro corpo, perché il nostro corpo è in una situazione comunque di infiammazione generalizzata che va poi ad espandersi su tutti quelli che sono i propri apparati, i propri sistemi. E quindi in questo caso si occupa di sé anche degli effetti sulla salute. Prego, lo interrotta. No, no, mi scusi, era giusto una precisazione. La regolarizzazione sicuramente di quello che è un aspetto estetico, un aspetto alimentare e un aspetto infiammatorio portano ad avere appunto un regolare equilibrio che quindi ci permette da un certo punto di vista di evitare delle diete che possono portare anche ad un senso di privazione e dall'altro lato a vivere meglio la nostra vita in maniera più flessibile. E quindi di vivere meglio e di stare meglio in salute. Grazie a Marco Giraldini, responsabile del comunicazione del Centro Accelerazione Metabolismo. A risentirci alla prossima. Buon lavoro. Grazie. Grazie a voi, buon lavoro. E a risentirci. Il centro di cui abbiamo parlato è una delle tante realtà che ci danno la possibilità di migliorare il nostro aspetto fisico soprattutto da un punto di vista del metabolismo e poi di cure particolari che non sono la classica punturina o il classico botox di cui abbiamo sentito parlare. Ed è forse uno degli esempi dei centri benessere e di bellezza che aumenteranno nel tempo visto che parliamo di nuova normalità e che il tema della cura estetica rientra nella nuova normalità di cui tanto si parla. Cioè come diventeremo? Diventeremo più attenti a noi stessi e più attenti alla cura estetica e quindi alla bellezza. Bisognerebbe fare uno stesso un ragionamento simile e forse lavorare su delle campagne comunicative anche sulla bellezza interiore. Cioè il livello di imbruttimento sociale e psicologico incattivimento sociale e psicologico se somigliasse all'attenzione che le persone hanno nel vestire nel curarsi ma noi vivremmo in un wonderful world e purtroppo non è così. Cioè voglio dire ci sono tante persone tanto ben vestite, curate, belle esteticamente dici che bella persona che tralasciano invece l'aspetto interiore di bellezza interiore. Capisci. Di bellezza interiore. Infatti è proprio questo il passaggio che bisogna fare e auspichiamo che questo passaggio ci sarà in futuro perché siamo in continua evoluzione. Se non altro per migliorare anche gli aspetti relazionali proprio perché siamo molto più soli rispetto a prima e l'aumento della solitudine è legato alla bruttezza interiore forse. Cioè siamo molto attenti al contenitore e poco al contenuto. Sbaglio? Assolutamente. Sai cosa mi viene in mente adesso? La dottoressa ha fatto riferimento a delle figure importanti. Allora l'atteggiamento che si ha nei riguardi di una donna postpartum. Quindi abbiamo due diversi esempi nell'immaginario collettivo che sono Meghan Markle e Kate Middleton che è un po' la Chiara Ferragni nel senso che dopo 15 giorni dal parto è uscita dal parto totalmente perfetta. era fantastica. Beh anche Miscellunzi che era dopo le gravidanze di Miscellunzi che l'avevamo visto in televisione tre giorni dopo bellissima, informissima. Esatto. E poi ci sono le comuni mortali che sono come la meravigliosa Meghan Markle e quindi alla tua domanda di prima cosa rifareste del vostro corpo? Io devo dire che sono fortunata quindi attualmente e credo che solo gli stolti non cambino idea quindi mi do questa possibilità nel tempo attualmente non cambierei nulla. Però ho vissuto un momento che è stato proprio quello della gravidanza dove il mio metabolismo è cambiato e io ho preso 23 kg quindi sono ingrassata moltissimo e per smaltire tutto questo peso in eccesso ci ho messo tanto tempo e quindi ho avuto mi sono trovata nella condizione magari di una persona che non si accettava più. Ecco in quel caso ho avuto amiche che proprio post partum hanno deciso di fare degli interventi perché la gravidanza aveva lasciato dei segni indelebili sul corpo che loro proprio non riuscivano ad accettare ed erano oggettivamente antiestetici però ti dico la body positivity di cui facevate riferimento prima spesso diventa strumentale ed è strumentale proprio attraverso queste figure che sono apparentemente perfette poi magari dietro hanno 18 tate ma in realtà quando si parla di body positivity si parla di donne che si mostrano sui social per quello che sono quindi con la cellulite con i rotoli con la macchia sì però mi ricordo un post della Ferragni che fece scalpore proprio perché usò questo tipo di hashtag quindi viene strumentalizzata questa tendenza e poi secondo me body positivity sì l'accettazione sì sei curvi e sei meravigliosa ma l'ostentazione secondo me di mostrare parti anche vogliamo intime del proprio corpo non vuol dire accettarsi secondo me è l'esatto opposto vuol dire cercare l'accettazione degli altri quindi mostrarsi per quello che si è realmente ma aspettare che siano poi gli altri a dire sì ci piaci così il confine infatti tra l'accettazione personale e la ricerca dell'accettazione esterna credo sia il confine molto labile dietro la ricerca della bellezza della perfezione c'è un bisogno di anzi più che un bisogno perché quello l'abbiamo visto già non ha bisogno di essere accettati di essere amati di essere riconosciuti ma tanto più forte è la convinzione che c'è dietro la bellezza questo modello di bellezza l'associazione è automatica se sei bella hai successo o comunque hai più chance nella vita però questi sono messaggi che arrivano dal sistema comunicativo cioè è la comunicazione che dice se sei bella e se sei fatta in un certo modo allora ce la fai allora otterrai tanti like allora e per questo la ricerca dei like sui social è una ricerca che abbassa sempre di più il livello perché il focus è spostato sempre su solo unicamente sull'aspetto estetico tralasciando invece tutti quegli aspetti interiori di crescita culturale di crescita personale di evoluzione perché quando si cresce ci si evolve significa che si sta molto meglio con noi stessi accettiamo anche il difetto e quindi non diventa un elemento su cui focalizzare il nostro pensiero le nostre azioni durante tutto il giorno tutto quel tempo a noi invece ci può servire può essere utilizzato per migliorarci per amarci e questo è il cambio di prospettiva e parte questo cambio di prospettiva deve essere veicolato attraverso un'educazione che deve partire proprio dalla famiglia no poi bisogna essere sinceri comunque nella relazione con l'altro io mi avvicinerò ad una persona che forse è più curata poi magari non avrà una grande cultura né una grande intelligenza ma il primo passo è quello quindi il problema credo sia anche questo dottoressa Miglietta cioè nella ricerca del partner sceglierò la più bella e non la più intelligente almeno nella prima fase del rapporto quindi c'è anche un po' perché poi alla fine cos'è che fa avvicinare due persone inizialmente nella maggior parte dei casi è soprattutto questa attrazione chimica quasi chimica no inconsapevole molto di pancia poi c'è una conoscenza più approfondita sì poi teoricamente ci sarebbe anche un progetto esistenziale e bisogna capire se l'aspetto esteriore è sufficiente a dare la possibilità al progetto esistenziale di avere un senso e una forma ecco però il primo passo è quello estetico il primo passo è quello estetico e mi permetto di dire che forse è anche quello più semplice rispetto a un passo che ti porta verso la conoscenza la consapevolezza di te stesso che è più faticoso richiede richiede anche a volte ecco tra una donna molto bella e una donna molto interessante o che ama veramente ama anche i difetti dell'altro che comunque sa stare in un rapporto con un pathos diverso io non lo so che cosa sceglierebbero secondo lei dottoressa Miglietta scegliono la prima per per la toccata e fuga sicuramente la prima per la toccata e fuga sì la prima noi abbiamo un esempio bellissimo di donna che si è sempre accettata anche nella nella crescita nella anzianità nella nella vecchiaia Anna Magnani Anna Magnani le sue parole sono storiche perché rivolgendosi al proprio truccatore gli disse non nascondere le mie rughe ecco però con Anna Magnani noi stiamo parlando di una donna di talento di una donna con un certo tipo di capacità una donna che non somiglia a nessuno somiglia a se stessa che è stata poi anche accettata dagli altri ma forse poi è il successo che ti fa ti porta ad essere accettata di più dagli altri per quello che sei e però parliamo anche di un modello femminile che non so se oggi funzionerebbe allo stesso modo Anna Magnani oggi funzionerebbe secondo voi o la snobberebbero un pochino guarda Anna Lisa io non sono d'accordo con questo tipo di valutazione ok ci piace questa cosa il conflitto ci piace li diciamo elegantemente di sentire bene allora io non sono d'accordo sul fatto che poi si va sempre verso la persona esteticamente più bella io ho delle amiche sì io ho delle amiche che non sono propriamente diciamo delle top model ma hanno un carattere un'energia un modo di fare un livello culturale che sono talmente coinvolgenti che hanno avuto uomini straordinari cioè faccio un esempio tra tutte non è una mia amica però voglio dire Raoul Bova ha sposato la figlia dell'avvocato Bernardini De Pace che notoriamente ora spero non mi arrivino quereli tra l'altro che non credo però ha puntato su altre cose e non diciamo sulla bellezza eppure Raoul Bova è un uomo bellissimo oggettivamente meraviglioso e poteva scegliere è vero che adesso sta con Roche però insomma adesso sorvoliamo però per dire non sono d'accordo secondo me il livello estetico cioè la parte estetica si guarda fino ad una certa età dopo si va oltre perché bisogna capire il momento che una persona sta passando e cosa e cosa sta desiderando quindi e poi voglio sfatare il mito che se si è più belle si hanno le porte aperte è tutto più semplice in alcuni contesti non è così perché si fa il doppio della fatica per dimostrare di essere che oltre alla bellezza c'è altro che sopra che sia dipende come viene esibita questa bellezza dottoressa Cimaroli cioè se la bellezza viene esibita attraverso un certo tipo di foto attraverso un certo tipo di messaggi passa un messaggio se invece tu mostri la bellezza attraverso il talento attraverso il sapere l'intelligenza passano altri messaggi ma io comunque continuo a credere che tra il talento e l'aspetto esteriore vince in prima battuta l'aspetto esteriore dipende sempre da chi lo guarda perché noi parliamo della stragrande maggioranza delle persone quindi stiamo facendo un ragionamento sui grandi numeri sì però ripeto dipende dall'età perché mi è capitato io non ho puntato mai sul mio aspetto fisico ho sempre cercato di puntare sui contenuti anche perché insomma io ho 42 anni quindi penso che la forza di gravità tra 3 o 4 anni avrà la meglio quindi non è che posso poi no così continuare a puntare su questo aspetto ci sono comunque donne che riescono a conservare la loro bellezza nonostante il passare del tempo sono d'accordo però diciamo che la mia comunicazione non è una comunicazione fashion quindi parlo di contenuti lavorativi e quant'altro eppure c'è sempre chi guarda con occhi diversi e ti vede magari col proprio occhio sì ma quanti uomini riescono a guardare le donne oltre l'aspetto esteriore quanti uomini hanno la capacità di valutare realmente una persona attraverso le capacità e non solo attraverso la messa in piega la domanda è diversa e il fisico quanti poi hanno realmente interesse e allora dottoressa Cimaroli come mai siamo così soli siamo tutti soli sposati single giovani vecchi siamo soli e la solitudine aumenta allora c'è qualcosa che non va nei nostri rapporti e cioè forse tutta questa estetica sta andando anche in testa un po' in testa evidentemente il problema è anche questo ci sono delle dinamiche relazionali che noi dobbiamo comprendere che ci portano a stare da soli a tutti i livelli ricchi poveri belli brutti non importa c'è qualcosa tra di noi che va rivista e che forse non è il corpo alla fine mi sono incazzata io posso raccontare l'esperienza di una donna che sto seguendo in un percorso di coaching che la prima volta che mi ha incontrato ha definito un obiettivo che era quello di trovare un uomo durante il percorso lei ha capito che in realtà non era quello l'obiettivo e che in questo momento doveva lavorare nella costruzione dell'amore per se stessa prima di tutto quindi non era la mancanza dell'uomo che creava un'insoddisfazione un'insicurezza sua personale ma l'amor proprio ma l'amor proprio e il suo caso ma anche tanti altri casi che cosa succede durante il percorso che vengono da me dopo metà quasi alla fine mi dicono sa che sto ricevendo tanti feedback da parte di altre persone che mi dicono ma ti trovo più bella perché quando si lavora con il cuore e con noi stessi diventiamo più belle diventiamo più belli sono d'accordo il lavoro interiore però comporta tempo come dicevamo prima rispetto a quello esteriore dove ci facciamo aiutare spendiamo dei soldi facciamo un percorso compriamo degli abiti nuovi il problema è risolto invece il lavoro interiore comporta intanto una certa forza di volontà che non è economica non può essere misurata in soldi è un lavoro diverso più grande coraggio coraggio inizialmente il coraggio perché decidere di accendere questo riflettore dentro di noi significa anche scoprire delle cose che in qualche modo abbiamo chiuso per tanti anni dentro un cassetto perché non le volevamo vedere perché erano scomode e quindi ci vuole il coraggio di cambiare perché cambiare è faticoso cambiare significa abbandonare tutto quello che fa parte di quella che è la nostra zona di comfort anche se non ci siamo bene però comunque lo conosciamo molto bene e quindi coraggio prima di tutto lavoro che è un lavoro che in alcuni casi può diventare anche doloroso però è quella trasformazione che è l'unica via di uscita per trovare la propria felicità per essere felici quindi non è nell'altro ma dentro se stessi e si arriva attraverso un lavoro interiore chi si ama davvero quando possiamo parlare di amor proprio raggiunto dottoressa Miglietta che cosa è l'amor proprio quando ci si accetta per come si è con il desiderio di migliorarsi in continuazione un miglioramento che passa visto che oggi abbiamo parlato tanto di bellezza estetica anche dal miglioramento estetico dalla valorizzazione del nostro corpo scegliendo un outfit anche che possa no perché ognuno di noi ha una determinazione sì ecco l'amor proprio è proprio questa accettazione e tensione verso la valorizzazione questo è il viaggio che può aiutarci a vivere meglio e comunque a completare un viaggio interiore che poi con quello esteriore ci portano a vivere serenamente accettarci e stare meglio al mondo e con gli altri io vi adoro ragazze vi terrei in trasmissione anche noi adoriamo grazie dottoressa Cimaroli di Mamsitter Italia Mamsitter è un sito molto utile per le mamme che hanno bisogno di una babysitter e anche un'opportunità di lavoro per tante ragazze giovani ragazze che hanno bisogno di cercare un'occupazione quindi lavorare nelle famiglie con i bambini Mamsitter si occupa anche di questo devo dire Paola Cimaroli è stata geniale in questa idea che ha avuto quindi complimenti grande stima Mamsitter Italia geniale brava e bella e anche mamma quindi veramente non le manca niente soprattutto mamma grazie alla dottoressa Lara Viglietta Life Coach grazie arrivederci alla prossima grazie a Luca Giraldin che abbiamo sentito tramite Skype a risentirci presto mattina con noi di oggi termina qui ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti